Oggi è una di quelle giornate in cui il tempo sembra proprio non trovare pace. Le previsioni danno cielo nuvoloso alternato ai rovesci di pioggia nel corso delle prossime due ore. In ogni caso, tutto ciò non sembra aver scoraggiato i sostenitori delle due squadre. Ha corsi in massa lo stadio per trascinare i giocatori in campo. Prepariamoci quindi ad assistere a un grande spettacolo. Non c'è che dire, la cornice di pubblico ci ha fatto entrare immediatamente in clima partita. Coreografie vibranti, bandiere colorate e cori cantati a squarciagola. Basalic! Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Esito sfortunato ma ha spaventato non poco gli avversari. Baselli Goldaniga Strefezza Nessuna delle due squadre fino ad essere riuscita a superare il portiere avversario. Zero a zero. Luckman Ballone interessante, in verticale. Cerca il dribbling in velocità. Rafael Varane da Cugna Cutrone 15 minuti alla fine della prima frazione. Gioca con un pallone lungo, riceve palla da dietro e buona, si gioca! ha provato ad andare via in dribbling, difensore molto attento. Scalvini Palla a Pasalic è costretto a ricominciare. Zappacosta Scamacca ci prova con un pallone profondo. Passaggio intercettato. Le stemme non c'è che dire la cornice di pubblico ci ha fatto entrare immediatamente in prima partita. Coreografie vibranti bandiere colorate e cori cantati a squarciagola. Pasalic un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. esito sfortunato ma ha spaventato non poco gli avversari. Baselli Goldaniga Strefezza Nessuna delle due squadre fino ad essere riuscita a superare il portiere avversario 0-0 Lukman Pallone interessante in verticale cerca il dribbling in velocità Raffaele Varane da Cugna Cutrone 15 minuti alla fine della prima frazione gioca con un pallone lungo riceve palla da dietro è buona si gioca ha provato ad andare via in dribbling difensore molto attento Scalvini palla a Pasalic è costretto a ricominciare Zappacosta Scamacca Scamacca ci prova con un pallone profondo passaggio intercettato non c'è che dire non c'è che dire passaggio intercettare immediatamente in clima partita coreografie vibranti bandiere colorate e cori cantati a squarciagola Pasalic un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol esito sfortunato ma ha spaventato non poco gli avversari baselli goldaniga strefezza nessuna delle due squadre fino ad essere riuscita a superare il portiere avversario 0-0 Luchman pallone interessante in verticale cerca il dribbling in velocità Raffaele Varane da Cugna Cutrone 15 minuti alla fine della prima frazione gioca con un pallone lungo riceve palla da dietro è buona si gioca ha provato ad andare via in dribbling difensore molto attento Scalvini palla a Pasalic è costretto a ricominciare Zappacosta Scamacca ci prova con un pallone profondo passaggio intercettato l'estremo difensore la caccia lunga fa male i calcoli il pallone non passa l'idea del passaggio era giusta gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico l'arbitro dice basta manda tutti ad ascoltare